Scusiamo, verosimilmente quando potranno essere corretti gli errori che i Revisori dei Conti hanno trovato all'interno del previsionale 2015? Oggi dovrebbe essere ulteriormente mendato il bilancio sulla base di alcuni rilievi che hanno una loro importanza ma non sono tali da impedire oggi in giunta l'approvazione del bilancio di previsione 15-17 per poterlo consegnare così rivisto al Collegio dei Revisori affinché con il loro parere possa essere a nostra volta tutto insieme depositato per il Consiglio Comunale alla Presidente Emilia Barrile. Avete già sollecitato il Consiglio su questo fronte chiedendo l'approvazione Cerele. C'è il rischio che se non venga approvato entro il 30 aprile Messina non potrà ottenere le risorse statali necessarie a far andare avanti il Comune? Evidentemente se il bilancio di previsione 15-17 non viene approvato in tempi già siamo fuori tempo massimo. Però viene ulteriormente dilatata l'approvazione. Il rischio è che mancando i trasferimenti ministeriali sia impossibile avere la liquidità per poter pagare gli stipendi e i servizi a tutta la città. Quindi mi auguro, ma tutti ne sono consapevoli e responsabili, devo dire, in Consiglio Comunale, tutti hanno ben compreso, che entro domani venga messo possibilmente in discussione nella prima commissione bilancio presieduta da Carlo Abbate il bilancio.